Possibile, possibile, possibile che un poeta non sappia scrivere altro che poesie d'amore. Sono morto da circa vent'anni e c'è pre-voglia di fare all'amore. Sono morto da circa vent'anni, sei mesi, tre giorni e ventidue ore senza fare all'amore. Sono morto da circa vent'anni e tutti. Sono morto da circa vent'anni e tutti. Sono morto da circa vent'anni e tutti. Non lo facciamo noi i doppiatori, entriamo in sala e non sappiamo come faremo, come sarà il film, perché spesso e volentieri non c'è il tempo, oppure non c'è la voglia di farci vedere. Quindi il direttore di doppiaggio, quando sono il direttore di doppiaggio, fa il sun tallatore e ci guarda, il tuo personaggio è questo e poi succede quest'altro, in questo momento succede questi due. Grazie